Ciao sono Luca e in questo video vediamo una scheda per aumentare la massa muscolare delle gambe in palestra per il tuo obiettivo di ipertrofia muscolare come sempre volendo evitando a parte un ciclo di forza muscolare che in molti casi potrebbe risultare non particolarmente piacevole e sostenibile semplicemente andrai a migliorare la forza indirettamente tramite l'aumento dei carichi nel corso del tempo sempre con l'ascolto di te al primo posto manteniamo in questo caso la divisione dei muscoli del metodo butterfly che prevede di allenare nel giorno 1 petto e schiena giorno 2 spalle e braccia e nel giorno 3 per l'appunto le gambe dopodiché se riesci a puntare a una multifrequenza ripeterai giovedì petto e schiena e venerdì spalle e braccia vedremo 5 esercizi iniziando con un 3x12 quindi 3 serie da 12 ripetizioni in tutti gli esercizi con delle pause mai oltre i 45 secondi pause nelle quali allunghi e contrai i muscoli così da sentire come stavano lavorando migliorando ancora una volta l'ascolto di te e anche il tempo sotto tensione iniziamo con lo squat con bilanciere mi raccomando eseguilo in palestra soltanto con il bilanciere libero e soltanto se hai un rack sul quale appoggiarlo ovviamente utilizzo un carico adeguato appoggiando il bilanciere sul trapezio contratto quindi il movimento prevede nella prima fase definita di hip hinge di spostare il bacino all'indietro con il peso quindi principalmente sui talloni e meno sulle punte dei piedi quindi scendi in accosciata con le ginocchia che non vanno oltre il piano immaginario che parte dalla punta dei piedi le punte dei piedi sono rivolte leggermente verso l'esterno e a loro volta allineate con le ginocchia stesse la schiena ovviamente mantiene le proprie curve fisiologiche con il core in termini di zona centrale del corpo contratto per stabilizzare al meglio nella fase di discesa puoi fermarti con le cosce parallele al suolo sempre enfatizzando entrambe le fasi del movimento come secondo esercizio puoi eseguire una leg extension assicurandoti nella fase di contrazione quando estendi le gambe di non arrivare mai con le gambe completamente estese lasciando quindi sempre un po' di flessione per quanto riguarda le ginocchia stesse esegui entrambe le fasi in maniera ampia, lenta e controllata sentendo al meglio la contrazione dei quadricipiti sempre con un carico adeguato come terzo esercizio puoi puntare a un gobble squat sempre con un carico adeguato rispettando i principi visti in precedenza per quanto riguarda le due fasi del movimento nella prima definita di hip hinge sposti il bacino all'indietro con il peso quindi principalmente sui talloni quindi scendi una cosciata con le ginocchia che non vanno oltre le punte dei piedi le punte dei piedi sono rivolte leggermente verso l'esterno e a loro volta allineate con le ginocchia stesse mantieni il manubrio all'altezza della parte alta del petto senza che le spalle intervengano a livello muscolare quindi puoi eseguire uno stacco rumeno che sia con bilanciero o con manubri per allenare in particolar modo i bicipiti femorali e in parte anche i glutei in questo modo rendendo il tutto molto più completo la schiena mantiene le proprie curve fisiologiche quindi mantieni il peso che sia il bilanciero o i manubri sempre il più possibile vicino al corpo nella fase di discesa ti fermi all'altezza di metà tibia quindi ancora una volta enfatizza entrambe le fasi del movimento sentendo al meglio la contrazione dei muscoli interessati e infine come ultimo esercizio per le gambe puoi eseguire un calf raises eventualmente aggiungendo due dischi posti sotto alle punte dei piedi in questo modo aumentando l'arco di movimento enfatizza ancora una volta entrambe le fasi sempre con un carico adeguato sotto forma di due manubri mantenuti lateralmente con le braccia completamente estese la schiena ovviamente mantiene le proprie curve fisiologiche con le scapole sempre addotte e depresse infine puoi eventualmente chiudere il workout con un plank per allenare l'intera zona centrale del corpo per la funzione principale che svolgi ossia stabilizzare dopodiché l'allenamento è finito ti rimando anche alle altre giornate giorno 1 petto e schiena e giorno 2 spalle e braccia dopodiché mi raccomando assicurati di personalizzarti il tutto per i migliori risultati in palestra ti rimando agli altri miei video paradigma autoconsapevolezza e come sempre se vuoi fare un salto di qualità in termini di forma fisica puoi contattarmi e ti spiegherò come posso aiutarti a distanza con il mio servizio di personal trainer online ciao ciao